Macchina del fango contro il procuratore antimafia Nicola Gratteri. Mentre il nostro paese è in ginocchio, a causa della pandemia determinata dal coronavirus, c'è chi non ha di meglio da fare che attaccare il coraggioso magistrato calabrese impegnato, è bene ricordarlo ancora una volta, nella destrutturazione del potere massomafioso e non soltanto in Calabria. C'è un giornalismo discutibile, amante dei salotti radical chic e di un garantismo straccione di periferia, che non fa bene al paese. Nicola Gratteri fa paura e non soltanto per la sua straordinaria capacità investigativa. Gratteri spaventa perché incarna in termini educativi, in termini squisitamente pedagogici, il ruolo di un intellettuale non solo autenticamente libero dai poteri forti, dalla loro capacità di condizionare la quotidianità di tutti, ma soprattutto Gratteri è capace di agire sulle coscienze. Non si spiegherebbero, diversamente del resto, se i 3.000 calabresi scesi in piazza Vibbo Valenzi, la vigilia di Natale dell'anno passato. Qualche giorno dopo, il Maxi Bliss, che portò all'arresto di 330 persone. Rinascita Scott, la più grande operazione antimafia dai tempi del Maxi Processo a Cosa Nostra, voluto, lo ricordiamo tutti, da Giovanni Falcone. Si è 2.000 che affollarono la piazza della procura a Catanzaro il 18 di gennaio dell'anno in corso, proprio per urlare con forza e con gioia, siamo tutti Nicola Gratteri. Un urlo collettivo, un urlo, quello di liberazione, perché ci si identificava allora, ma sicuramente anche oggi, nell'azione continua e incessante di un magistrato impegnato in prima linea contro le mafie, da oltre un trentennio, a rischio vita. Perché è notizia recente, l'adozione del livello massimo di sicurezza tutela dell'incolumità del procuratore. Gratteri sta toccando i livelli del potere occulto di questo paese, cosa che prima di lui avevano fatto Falcone e Borsellino. Questo potere occulto ha il nome di massomafia, che non è la mafia degli stracci, ma quella della finanza e dell'elite, quella dei colletti bianchi, che spesso e volentieri si muovono condizionando la quotidianità non soltanto degli enti locali, non soltanto dei comuni, non soltanto degli organismi più grandi a livello territoriale, come le regioni, ma parliamo di una struttura di potere in grado di condizionare le funzioni principali dello Stato, quindi di agire a livello governativo, a livello centrale, ed in questa cornice che si inquadra il finto scandalo del terreno preso incomodato dal procuratore antimafia di Catanzaro nella sua gerace, di cui il riformista ci riferisce addirittura, scomodando per la firma in calcio al pezzo il suo illustre direttore, Piero Sanzonetti, che conosce del resto bene la Calabria, perché lo ricordiamo come direttore di importanti testate calabresi, non molto tempo addietro in vero. Finto scandalo perché? Perché la notizia è falsa, è una fake news, come oggi si definiscono le notizie infondate. In un bell'articolo la giornalista di Repubblica Alessia Candito ha scritto che è stato fatto credere che, per vezzo o privilegio al procuratore, fosse stato concesso incomodato d'uso, magari a prezzo di favore, un terreno di proprietà dell'Asp nei pressi dell'ospedale di Gerace. Leggiamo nel pezzo della Candito, ovviamente senza specificare che quel plesso è un rudere, realizzato nel 1985, quindi 35 anni or solo, ascoltate bene, mai utilizzato, abbandonato da decenni e conciato così male d'aver spinto l'azienda ospedaliera provinciale stessa a sollecitarne la messa in sicurezza o addirittura l'abbattimento. Continua nel suo articolo Alessia Candito, chiaramente senza specificare, peraltro che Gerace è uno splendido paesino, certamente, ma raggiungibile solo ed esclusivamente tramite una strada in pessime condizioni, astento percorribile, che di fatto condannerebbe un ipotetico ospedale ad avere come comunità di riferimento giusti 2000 abitanti della zona. E velatamente conclude suggerendo addirittura che qualcosa sia stato sottratto alla comunità o al nosocomio, realizzare un gran parco. Argomenti assai suggestivi, naturalmente suggestivi e infondati, mentre il Paese, in piena emergenza sanitaria, fa i conti con le esigue risorse del proprio sistema di tutela della salute, per anni svenduto quello pubblico ai privati, senza che nessuno proferisse fiato. E proprio mentre le mafie si preparano con la loro liquidità a strumentalizzare il crescente disagio sociale determinato dalla crisi economica causata dal coronavirus. Il terreno di Gerace, ripetiamo, incolto e abbandonato, è stato concesso a Gratteri soltanto per necessità evidenti derivanti dal suo dispositivo di sicurezza. Allora cosa ci sentiamo di dire dai microfoni di pagine di resistenza? Che non si illudano i presunti garantisti di Cosa Nostra. Ci verrebbe voglia di provocare e dire di Cosa Nostra. Nicola Gratteri va avanti e con lui andranno avanti le sue inchieste. È arrivato il momento di attaccare con forza la struttura occulta di questo paese ingiusto, a più velocità, forte con i deboli e deboli con i forti. Noi continueremo a sostenere Nicola Gratteri e la sua azione repressiva contro la criminalità politica e militare. Ci saranno altre Vibbo e altre Catanzaro e noi saremo sempre di più nelle piazze perché a noi piacciono le piazze, piacciono le strade, piacciono quei luoghi pubblici dove la gente si incontra, discute, si sfoga, ha voglia di combattere e francamente non si piacciono invece i salotti radical chic della borghesia mafiosa. Ancora una volta, noi continuiamo a ribadirlo, ancora una volta, tutti noi siamo Nicola Gratteri.